Ecco una lampada speciale. Prima era plastica da buttare, e adesso? Ci puoi leggere una storia prima di dormire, rischiarare una cena molto intima, illuminare un libro di favole da raccontare, spegnere. Quando fuori c'è il sole. Ecco una lampada speciale, perché a realizzarla sono stati gli artigiani di Refugee Scart. Un progetto che vive grazie alla creatività dei rifugiati che arrivano da Guinea, Niger, Burkina Faso, Gambia, Senegal, Mali, Nigeria. Sono loro che utilizzano materiali da riciclo e li trasformano in oggetti unici e nuovi. Un contributo vero al bene comune. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti